Continua l'impegno della CNA della provincia di Agrigento verso il recupero dei crediti verso le imprese impegnate nel servizio idrico integrato nel territorio agrigentino, bandato sotto la gestione commissariale, i vertici della CNA di Agrigento a cui le aziende fornitrici circa una ventina si sono affidate per la loro rappresentanza sindacale, promettono di non lasciare nulla di intentato per il recupero delle somme non percepite complessivamente. Parliamo di circa un milione di euro a fronte di lavori regolarmente eseguiti, apprezziamo la disponibilità del prefetto Cocciufa a cui va il nostro ringraziamento per la sensibilità mostrata, ci ha accolti, ricevuti e ascoltati, ma la soluzione è stata chiara, va individuata su altri tavoli istituzionali, noi raccogliamo il suggerimento consapevoli che la risposta ce la deve dare lo Stato, chiamato a onorare gli impegni formalmente assunti dalle proprie articolazioni. E' quanto affermano il Presidente della CNA Francesco Di Natale e il Segretario Claudio Spoto, quindi non può essere altrimenti, in caso contrario significa che il sistema democratico del nostro Paese è fortemente malato e non è in grado di dare risposte e certezze e garantire i diritti alle comunità. Adesso a seguito delle entrate in campo della curatela ferrimentare, nel periodo che va dal 16 marzo 21 al giorno in cui è stata dichiarata l'insolvenza della società al 2 agosto dello stesso anno, data in cui si è insediata la nuova azienda laica, sembra essersi creato un clamoroso vuoto per il quale nessuno vorrebbe risponderne. Chiariamo che a reggere le fila di Gilgen di Acque c'era un commissario prefettizio. Noi non vogliamo perdere questa fiducia, in attesa di intraprendere un percorso legale sotto il patrocinio dell'Avvocato Stefano Catuara, lanciamo un ultimo ed estremo grido di allarme. Facciamo quindi un appello a chi ha la responsabilità di governo del territorio a vario livello, concludono di Natale Spoto, affinché si trovi una rapida soluzione alla delicata avvertenza che in assenza di provvedimenti adeguati e mirati rischia di produrre effetti devastanti in termini sociali, economici e occupazionali, fermo restando che a fronte di alcun riscontro positivo, seguiranno anche plateare forme di protesta.